Buongiorno amici, potete scegliere un messaggio, una carta per voi e vi svelerò le risposte. Nella prima variante abbiamo la polverina blu, seconda variante abbiamo la polverina color oro, terza variante come potete vedere polverina rossa. Scegliete quella che più vi chiama e andiamo a vedere quale consiglio è qui per voi oggi dalle carte che ho creato io. Svegliamo subito le risposte. Prima variante questa carta ti dice le cose buone vanno a pezzi perché cose migliori possano accadere. Quindi questa è una carta che ti invita, visto che abbiamo comunque il color rosso che appartiene al primo chakra, ad avere fiducia nella vita, ma ti prospetta sicuramente anche di uscire da un momento buio che hai vissuto ultimamente e ti ricorda che se qualcosa si è chiuso è perché sta arrivando un qualcosa di meglio a te. Passiamo alla seconda carta centrale e qui abbiamo questa carta che ti dice trova qualcuno che ti rovini il rossetto e non il mascara. Una frase famosissima che ha detto Marilyn. Questa carta è uscita però capovolta, quindi che dirti? Qui sicuramente il messaggio è quello di chiudere con quelle situazioni di sofferenza e di buttarti verso un qualcosa di bello ma anche di nuovo. Quindi se il passato ha fatto soffrire le persone non cambiano. Quindi trova qualcuno che ti rovini il rossetto e non il mascara è il messaggio per te. Trova qualcuno che ti faccia sorridere, trova qualcuno che ti renda la vita anche migliore di quella che tu vivresti da sola. Il terzo messaggio polverina rossa, andiamo a vedere la carta che cosa ti vuole dire. Dalla carriera non ci si può far coccolare la notte. questa è una carta che ti parla di denaro, è una carta che ti dice che molto probabilmente potrebbe esserci una risoluzione per quel che riguarda il campo lavorativo o economico, ma siccome comunque è una carta che è uscita capovolta, come hai potuto vedere, sempre collegata al chakra numero uno, il chakra della radice, ti dice di abbandonare la paura. Potrebbe esserci una situazione che ti fa paura. Questa è una carta che ti dice anche di aprirti maggiormente ai sentimenti e di non pensare solamente al lavoro, ma di darti una nuova opportunità anche per quel che riguarda appunto i sentimenti, l'amore, perché potrebbe esserci un qualcosa di positivo all'orizzonte per te. Queste erano le risposte delle mie carte. Un abbraccio e al prossimo video. Luce!